3 febbraio San Viaggio, fedeli alla tradizione, si viene in chiesa per ricevere la benedizione contro il mal di gola. La piccola chiesa è gremita. Grazie, ne approfitterò. Buongiorno, ed ecco i panini di San Viaggio. Assolutamente no. Pietro, c'è sempre tanta gente, vero, che viene? Scusate, stavamo riprendendo il tutto. Sto facendo il mio. Aspettate, se no non va di niente. Il progetto per la ristrutturazione della chiesa. Ecco, nella cappella, nella cappellina di San Viaggio. Continua la benedizione particolare che ci libera dal mal di gola. Funziona questo organo? Sarai tu a suonarlo? Sì, per questa messa sì. Grazie. 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 Grazie.